Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con l'edicola questo martedì 27 in diretta sul nostro canale 11 tvl allora andiamo a vedere subito la cronaca le notizie che arrivano dalla nostra provincia c'è stato un incidente questa mattina un'auto contro uno scooter lungo la via provinciale lucchese in località le fornaci a uzzano sul posto sono state inviate l'ambulanza della misericordia di uzzano e l'automedica di pescia con codice giallo la vittima è un ragazzo di 15 anni residente a montecatini che è rimasto ferito dalla conseguente caduta dello scontro contro l'auto che è stato trasportato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di pescia cosma e damiano e dalla ultima notizia andiamo invece a vedere quali sono le notizie più importanti che troviamo nel pagine online dei quotidiani nazionali e internazionali e e poi andremo a vedere anche le notizie locale sui nostri quotidiani cartaci la nazione e il tirreno cominciamo allora da la repubblica l'apertura l'apertura per quasi tutti i quotidiani in questa giornata è per il lo scontro tra hillary clinton e donald trump per quanto riguarda la corsa alla casa bianca e notizia del giorno è anche il la data fissata per il prossimo referendum costituzionale che sarà il 4 dicembre data fissata dal consiglio dei ministri ieri allora andiamo a vedere sulle pagine della repubblica che apre come detto sul scontro il primo dibattito tv fra donald trump e hillary clinton clinton batte trump nel primo dibattito tv scontro su economia rapporti razziali e sicurezza l'andremo ad approfondire dopo andiamo a leggere invece le altre notizie che riporta la repubblica e parla ancora di del movimento 5 stelle torino milano roma 100 giorni da sindaci appendino sala e raggi ecco il bilancio delle prime mosse sono gli ultimi tre sindaci eletti ovviamente sala non rientra nel movimento 5 stelle del partito democratico gli ultimi tre sindaci eletti nelle ultime elezioni amministrative nelle grandi città ovvero torino milano e roma e poi la si parla ovviamente anche di referendum come detto la data fissata del 4 dicembre referendum voto il 4 dicembre renzi la partita è qui e ora e c'è anche la diciamo i quesiti che sono riportati sui quali si esprimere gli italiani il prossimo nel prossimo referendum costituzionale ancora corleone notte denunciano il pizzo arrestati 12 boss c'è il nipote di provenzano lo schiaffo a san gennaio colpo da 10 mila euro rubate le offerte del miracolo aperta la cassaforte in un locale attiguo al duomo di napole infine frontalieri si parla ancora della iniziativa della svizzera per arginare il diciamo l'attività lavorativa dei frontalieri e dare invece e privilegiare invece il lavoro degli svizzeri frontalieri gentiloni alla svizzera se discrimina salta l'intesa con l'europa dieci anni di campagne razziste in ticino è comunque un argomento che è stato ampiamente trattato anche nella giornata di ieri allora andiamo a vedere nel approfondimento su quello che è l'articolo per quanto riguarda lo scontro tra il hillary clinton e donald trump elezioni usa hillary clinton vince il primo confronto tv i primi sondaggi sono favorevoli alla candidata democratica il duello è stato spettacolare trump è riuscito ad apparire presidenziale e a evitare l'ex first lady ha dato il meglio di sé negli attacchi personali all'avversario e qui vediamo i due contendenti nella corsa per le elezioni negli stati uniti hillary clinton con un completo rosso donald trump con un vestito grigio scuro i sondaggi istantanei danno un verdetto chiaro il primo confronto tv lo ha vinto hillary clinton quello della cnn in stand poi su un campione di telespettatori dalla candidata democratica vincitrice al 62 per cento fosse vero oppure sui sondaggi normali la partita sarebbe chiusa da oggi bisognerà aspettare qualche giorno forse perfino settimane per misurare un effetto sedimento e capire se davvero il grande scontro ha potuto cambiare le sorti di questa nazione è uno scontro però che si ripeterà anche nel nelle prossime settimane poi il a novembre il voto il corriere della sera come detto è di molti quotidiani l'apertura sullo scontro in tv sulla cnn fra i due contendenti alla corsa alla casa bianca anche il corriere della sera apre sul su questo tema trump e clinton sfida sul lavoro e razzismo l'analisi la ridetta l'agenda le pagelle il 59,5 per cento peggio donald parole chiave i volti i look melania e bill e quindi è un'analisi molto dettagliata quella che fa il corriere della sera pensioni 14esima fino a 1000 euro tasse a rate senza oneri e ancora vediamo il premier matteo renzi davanti all'ennesima lavagna che spiega quello che sono le intenzioni del governo sul fronte dei conti pubblici si parla ovviamente anche di referendum la sfida sarà il 4 dicembre le ragioni del sì e quelle per votare no e quindi ci sono saranno dettagliate le argomentazioni dei due schieramenti e poi una notizia tragica che diciamo apparsa già da alcuni giorni sul maggiori quotidiani con il video del tir che piomba sulle auto al casello il tir piomba sulle due auto il momento dello schianto morti i genitori figli feriti si riferisce all'incidente in cui sono morti appunto i due genitori lasciando tre bimbi piccoli che erano in macchina con loro ovviamente orfani mancano i fondi 20 mila profughi si parla di emergenza migranti fuori dalle strutture di accoglienza ogni straniero costa tra i 25 e 45 euro manca all'appello mancano all'appello 600 milioni di euro per l'assistenza ai migranti l'erogazione è stata bloccata dal ministero del tesoro presto i migranti saranno libri di circolare in attesa di una nuova sistemazione e andiamo dal corriere della sera al fatto quotidiano dopo torneremo su questi quotidiano online per approfondire vari argomenti il fatto quotidiano ancora un'apertura sul clinton e trump clinton batte trump nel primo faccia a faccia tv hillary gioca d'esperienza donald sulla difensiva ex first lady preparata ma non perfetta il tycoon evita eccessi e soffre su tasse donne e politica estera nessuno affonda il colpo per paura di sbagliare sondaggio cnn per il 62% vince candidata dem ai punti ci sono scontrati allora leggiamo quello che è il l'articolo di introduzione si sono scontrati su tutto tasse commercio crimine politica estera terrorismo e tensioni razziali lei lo ha attaccato per il suo comportamento razzista lui l'ha definita una santarella alla fine poco dopo più di 90 minuti di dibattito alla hofstra university di long island hillary clinton e donald trump hanno dipinto un'immagine d'america in potente riducibile contrasto un paese sulla strada di inevitabile e inevitabile decadenza per il candidato repubblicano la nazione ancora capace di guidare il mondo per la democratica a una prima valutazione clinton è parsa più tranquilla e misurata tra ha evitato gli eccessi retorici del passato ma in certi momenti per esempio sulla questione delle tasse del certificato di nascita di barack obama è parso in seria difficoltà e ancora il referendum costituzionale il 4 dicembre opposizione scelta per prendere tempo e la denuncia appunto sulla dell'opposizione sulla data scelta dal governo vivo valentia patrimonio all'italiana per realizzare il parco archeologico si interrano le mura appena scoperte ancora sul carceri permessi e benefici ai mafiosi la nuova legge così non va procuratore aggiunto di messina boccia la riforma penale e poi ancora il Movimento 5 Stelle i scritti votano nuovi regolamenti in Movimento 5 Stelle ma Beppe Grillo resterà l'ultima parola infine sull'Europa Draghi i paesi ad alto debito facciano a spending review assumendo gente che non fa nulla non si aumenta la crescita è la denuncia di Draghi appunto che si rivolge ai governi nazionali allora andiamo a approfondire poi andremo a vedere anche sulla voce della montagna quelle che sono le notizie appunto sulla montagna dalla montagna pistoiese partiamo però invece da quello che è l'argomento trattato in apertura come molti quotidiani abbiamo visto online ovvero lo scontro fra Hillary Clinton e Donald Trump abbiamo letto le prime righe e continuiamo a leggere quello che dice l'articolo di Federico Rampini sulla Repubblica il duello del secolo con 100 milioni di telespettatori non ha deluso le attese spettacolare eccitante forse decisivo Hillary Clinton aveva più da perdere perché da lei ci si attendeva il massimo della competenza della professionalità ma doveva evitare di aggiungerci qualche tic di superbia, arroganza e presunzione ce l'ha fatta con un controllo esemplare ha dato la sensazione di essere sicura di sé senza strafare Donald Trump doveva evitare gli eccessi doveva trattenersi dall'istinto dello showman per apparire presidenziale ed effettivamente si è contenuto ne esce un po' meno inverosimile come presidente ha perfino dichiarato che ha dichiarato che accetterebbe una vittoria di Hillary anziché ricorrere come fa di solito allo spettro delle elezioni truccate e quindi questo è il commento sulla Repubblica.it Dallo scontro quindi dagli esteri andiamo invece a vedere quello che è la politica interna con il referendum costituzionale che come detto si terrà il prossimo 4 dicembre referendum si vota il 4 dicembre Renzi la partita è ora il Consiglio dei Ministri annuncia la data per il voto sulla riforma della Costituzione un Consiglio dei Ministri tra l'altro che è durato poco meno di mezz'ora quindi nessun problema per la data del 4 dicembre anche se le opposizioni criticano il governo di non essere state abbastanza e sufficientemente interpellate critiche dal fronte del no per il Movimento 5 Stelle è grave non aver consultato le opposizioni leggiamo anche vediamo se riusciamo a leggere no allora leggiamo l'articolo la data del voto per il referendum costituzionale il 4 dicembre la conferma formale arriva dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei Ministri il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo per l'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum sul testo della legge costituzionale per De Vincenti la decisione arriva con più di 10 giorni di anticipo rispetto al termine utile e anche la data del 4 dicembre è anticipata rispetto all'ultima data possibile l'orario lo annuncia il Premier Renzi nella sua iNews si voterà il 4 dicembre dalle 7 alle 23 e il Premier annuncia anche che aprirà la campagna per il SIA referendum il prossimo 29 settembre a Firenze il capologo toscano rappresenta la prima di numerose tappe in vista del voto e quindi sarà una campagna elettorale lunga da qui al prossimo dicembre e che siamo sicuri sarà anche molto intensa dal Corriere della Sera al Fatto Quotidiano andiamo a vedere un modo diverso per quanto riguarda le linee politiche le linee editoriali delle due testate Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano come analizza il Fatto Quotidiano la notizia del referendum indetto per il prossimo 4 dicembre referendum costituzionale finalmente c'è la data si vota il 4 dicembre le opposizioni scelta per prendere tempo si voterà occhio a metà ottobre aveva detto Matteo Renzi il 4 maggio per poi correggersi per difetto un mese dopo dallo studio di virus sul Rai 2 spero si voti il 2 ottobre tra rinvie e polemiche invece il giorno giusto è slittato di due mesi cosa potrà succedere nei 60 giorni che vanno dalla prima ipotesi alla data ormai ufficiale di certo ci sarà la presentazione della finanziaria e più tempo per la campagna elettorale la data finalmente c'è il 4 dicembre gli italiani andranno alle urne per dire sì o no alla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi ed è stato proprio il premio a proporre il Consiglio dei Ministri che ha approvato la prima domenica dell'ultimo mese dell'anno come giorno del referendum affinché sia tutto ufficiale però manca ancora la ratifica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella se non è una formalità poco ci manca dice il Fatto Quotidiano di assolutamente certo ad oggi c'è la fine di un'attesa a tratti snervanti e su cui si sono concentrate varie accuse nei confronti dell'esecutivo in principio infatti si parlava dei primi di ottobre come periodo maggiormente plausibile per il voto a metà ottobre aveva detto Matteo Renzi il 4 maggio per poi correggersi per difetto un mese dopo dallo studio di virus sul Rai 2 spero si voti il 2 ottobre tra rinvie e polemiche invece il giorno giusto è slittato di due mesi cosa potrà succedere? l'abbiamo già letto appunto che ci sarà la presentazione della finanziaria non è mistero che Renzi spera di poter contare su dati economici migliori di quelli attuali e magari avere la possibilità di varare una legge di bilancio non troppo penalizzante specie per il Sud questo ovviamente per non penalizzare ovviamente anche quelle che sono le ragioni del sì da parte dello stesso Premier Matteo Renzi e noi la siamo sull'avvenire per parlare invece del prossimo movimento prossime iniziative di Papa Francesco che farà in giro per il mondo e andiamo a vedere la sua prossima partenza che è per il Caucaso vediamo le tappe ingrandiamole un attimo per leggere meglio come la prima in Armenia anche la seconda tappa del periplo di Papa Francesco nel Caucaso si svolge nel segno della pace del dialogo ecumenico e di quello interreligioso venerdì il Vescovo di Roma parte per la Georgia dove rimarrà anche sabato domenica sarà tutta la giornata in Azerbaijan per rientrare a Roma in tarda serata oggi il consueto briefing del direttore della sala stampa Vaticana il primo di questo genere di Greg Burke che dal 1 agosto è subentrato a padre Federico Lombardi il sedicesimo viaggio internazionale di Papa Francesco chiaramente è un viaggio di pace il Papa porta un messaggio di riconciliazione per tutta la regione e non potrebbe essere altrimenti per Papa Francesco successore di Pietro dalla cronaca nazionale e internazionale quindi dagli esteri alla cronaca e alla politica nazionale andiamo invece su quello che sono i temi legati alla montagna pistoese attraverso la voce della montagna, il quotidiano online su che tratta principalmente ma non solo argomenti della nostra montagna e andiamo a vedere per quanto concerne gli argomenti principali anche ricordo che la voce della montagna fa del collaboratore dell'inviato sulla montagna pistoese della nazione Alessandro Tonarelli appassionato interprete della sua montagna dice appunto il quotidiano fu segretario del distretto scolastico di San Marcello alla cui nascita contribuì come pochi per 30 anni corrispondente della nazione e animatore di trasmissioni radiofoniche nelle emittenti locali ancora appassionato di politica e protagonista di tanti eventi inventò i processi a Gavinana in occasione delle manifestazioni manifestazioni ferrucciane il funerale e si è tenuto scusate c'è stato un problema sulla wifi il funerale si è tenuto nel pomeriggio di ieri e ancora sulla voce della montagna gli imprenditori provano un progetto per rendere appetibile la montagna lo dice lo stesso quotidiano in un articolo oltre 10 imprese guidate da Marco Ceccarelli di Duganaccia 2000 hanno già aderito al Consorzio Toscana Turismo e Congressi di Confesercenti servono iniziative comuni per far venire la gente anche in autunno e primavera in programma a ottobre corsi di formazione di orientering e trekking oltre alla presentazione di ciò che offre la montagna pistoiese in diverse città italiane l'iniziativa parte da Cutigliano ben aperta a tutti l'articolo è di Paolo Vannini tra l'altro anche responsabile ideatore del quotidiano e dai quotidiani online andiamo su quelli cartacei partendo dalla Nazione poi andremo a vedere anche i più importanti articoli del Tirreno iniziamo con la cronaca locale dalla cronaca di Pistoia Montecatini Farmaci Fantasma otto indagati si apre con la cronaca nel quotidiano pistoiese l'indagine della squadra mobile su oltre 4.000 prenotazioni dell'ex Asle 3 adesso come sappiamo è Asle Toscana centro e poi ancora la Nazione riprende il tema oramai quotidiano facendo un gioco di parole da quando iniziano le scuole resta sui bus alcuni mezzi addirittura scortati dalla polizia e qui c'è la foto che ritrae appunto la situazione che si è verificata ieri la didascalia proprio lo spiega ecco come si presentava ieri mattina la situazione degli autobus all'orario in uscita delle scuole dicevamo della montagna è un problema che ovviamente si ripresenterà anche questo nelle prossime settimane con l'inizio della stagione invernale dagli impianti ai consorsi il risico bianchi e scusate il risico bianco ovviamente si fa riferimento la stagione bianca la stagione del sci Val di Nievole sopraelevata doccia fredda delle ferrovie ci vogliono 90 milioni per questo tipo di soluzioni e quindi è una soluzione che si complica pagina 2 del quotidiano La Nazione la cronaca locale farmaci scomparsi peculato e danni all'ASL 8 indagini ce ne siamo occupati anche noi con un servizio ieri in cronaca prenotazione con dati falsi l'indagine l'analisi dei dati i poliziotti hanno esaminato gli archivi di 79 farmacie della provincia e 7 milioni di ricette dal 2010 al 2014 scremandole fino a circa 700 mila e poi fino a 4200 il questore salvatore la porta ieri mattina ha elogiato l'indagine della squadra mobile una pregevole indagine molto tecnica e sofisticata che cosa succede ora invece praticamente spiega che cosa è successo nelle varie fasi di indagine noi evidenziamo proprio quello che è stato messo sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti 8 di loro 8 farmacisti per un totale di 7 farmacie disseminate sul territorio provinciale sono indagati per peculati in virtù di incarichi di pubblico servizio proprio per la scomparsa dei farmaci che avrebbero provocato all'azienda sanitaria un danno erariale complessivo di circa 100 mila euro il paziente a titolo di esempio qui viene spiegato un po' quello che era il modus operandi l'esempio è che il paziente come gli inquirenti hanno illustrato ieri si reca in farmacia con una ricetta regolare il farmacista inserisce il numero il farmaco e la quantità che arriva quindi via web al deposito che poi consegna il prodotto nelle ricette analizzate come non regolare dagli inquirenti sono stati trovati numeri inventati nomi di altri farmaci e un numero superiore di confezioni ordinate rispetto alla ricetta base la nazione affronta ancora quello che è stato il post il dopo omicidio che si è verificato ad agliana del padre che ha ucciso il figlio di 52 anni parla l'avvocato non può stare in cella i timori dei legali di vecchio l'anziano mangia poco è molto provato le condizioni l'uomo che una settimana fa eccolo inquadriamolo meglio l'uomo che una settimana fa ha sparato al figlio uccidendolo non mangia e parla poco le preoccupazioni dei difensori oggi i funerali della vittima questo pomeriggio ad agliana nella chiesa di San Nicolò si svolgeranno i funerali di Giovanni Vecchio ma cos'era successo lo riepiloga di spalla proprio la nazione la mattina di mercoledì 21 settembre nell'appartamento di via Guidorossa Giuseppe Vecchio 87 anni ha ucciso il figlio Giovanni di 52 è arrivata poi la confessione dopo poche ore l'anziano padre ha confessato l'omicidio del figlio ha detto che lo maltrattava da tempo e che la sera prima lo aveva picchiato e minacciato la pistola Giuseppe Vecchio aveva acquistato 15 anni fa una pistola per paura dei ladri la sera prima della tragedia l'aveva messa sotto il cuscino la linea difensiva gli avvocati dell'uomo che ha ucciso il figlio chiedono l'accesso alla casa e poi un altro fatto di cronaca che riguarda la polizia stradale molluschi mal conservati maximulta al conducente il ritrovamento è avvenuto alla casella autostradale di Chiesina ozanese la polizia stradale ha fermato e controllato un veicolo carico di pesce surgelato le confezioni di molluschi venivano trasportate a una temperatura di più 20 anziché di meno 18 quindi un'escursione termica di 38 gradi è una situazione alquanto pericolosa per mantenere appunto inalterati gli alimenti un'inchiesta da parte del giornale della nazione quella che è avvenuta e che abbiamo trattato anche noi nei giorni scorsi la leggiamo solo nei titoli non approfondiamo perché è un argomento appunto che abbiamo già affrontato resta per uscire e prendere il bus deve intervenire anche la polizia mezzo giorno di fuoco alla stazione studenti sul piede di guerra ancora caos continuano i disagi ma anche i pericoli per gli studenti delle superiori che usufruiscono degli autobus copite per andare e tornare da scuola ieri è dovuta intervenire addirittura la polizia e ancora una protesta ancora a causa dell'acqua lasciati a secco decine di famiglie senza acqua proteste di decine di famiglie tra via bassa della Vergine e via Giambattista Vico da sabato sono senza acqua l'intervento di un tecnico non ha risolto la situazione i disagi sono appunto tra via bassa e via Giambattista Vico andiamo a vedere qual è il problema da sabato pomeriggio le famiglie di via bassa della Vergine e delle zone limitrofe sono a secco è stato ripristinato il servizio ma è insufficiente solo per le case che si trovano ai piani bassi attraverso il tubo provvisorio il silenzio denunciano i residenti nessuna risposta dal numero verde del gestore il guasto non risulta e nessuno sa dire ai cittadini se vi sarà un intervento per risolvere la situazione intanto sono due giorni che le famiglie non possono neanche lavarsi e di sotto per assurdo si parla di allagamenti quindi un po' una contraddizione ma tant'è andiamo a parlare appunto di montagna pistoiese l'ultimo argomento che trattiamo sulla nazione poi andremo velocemente a vedere quello di cui parla il terreno appunto dal trafiletto in apertura dall'occhiello in apertura vediamo ancora a pagina 7 della cronaca locale della nazione seggio vie liquidazione consorsi quando la montagna è un risico settore a rischio la soluzione la proprietà passi alla pubblico a dirlo è il sindaco di Abetone Gian Piero Danti un aiuto da Firenze per cercare di salvare un modello che si dimostra sempre più in difficoltà la regione è pronta a finanziare il comune per l'acquisto degli impianti di risalita il contributo in arrivo soldi che serviranno anche per comprare gli impianti della slittovia da qualche mese nell'articolo di Davide Costa leggiamo quello che viene puntualizzato da qualche mese sotto l'occhio del ciclone è finita la società slittovia a betone che gestisce la seggiovia della selletta e lo skillift del gomito quest'estate la società non ha aperto l'impianto né il rifugio in quote da qualche settimana è stata posta in liquidazione improbabile pensare che la seggiovia e lo skillift del gomito possano essere gestite questo inverno dalla stessa società quindi il rischio è che rimangano chiuse ecco come salvare il comprensorio lo dice appunto Giampiero Danti serve un percorso di progressivo acquisto degli impianti vale la pena leggere quello appunto che sono le parole di Giampiero Danti serve un percorso di progressivo acquisto con risorse pubbliche degli impianti di risalita presenti sul territorio che successivamente possono essere concessi in utilizzo con nessun onere a carico del comune a soggetti dotati dei requisiti necessari all'esercizio di atti di tali attività scusate operanti sul territorio il comune proprietario di tutti gli impianti del territorio il cui utilizzo venga concesso a un unico soggetto che possa attuare una fattiva efficacia e progressiva politica unitaria di sviluppo del comprensorio ed eliminare ogni aspetto di antagonismo commerciale 3 milioni saranno poi concessi lo vediamo di spalla uno stanziamento della regione toscana 3 milioni per il sistema neve 1 milione 850 mila euro al comune di Abetone per la riqualifica dell'offerta turistico sportiva 1 milione 150 mila euro per il sistema neve dell'intera Toscana e allora questo quanto si legge sulla nazione velocemente invece andiamo sulla pagina del terreno nella pagina nazionale in prima pagina dopo in legati a otti farmacisti decide di aprire con la cronaca pistoia ricette fasulle per impossessarsi di farmaci costosi all'unni a scuola in mezzo al traffico scoppia la polemica la fotonotizia e si riferisce alla scuola dell'infanzia di Pittini a Borgabuggiano dove è stato cambiato l'ingresso della scuola da una strada interna a una strada più transitata le proteste dei genitori riguardano proprio questo tipo di soluzione e denunciano appunto i genitori una strada pericolosa per l'accesso alla scuola mercato mercato nero per sportivi 8 farmacisti indagati all'apertura nella pagina locale l'abbiamo già visto andiamo oltre parliamo invece e chiudiamo qui la nostra rassegna stampa con i matrimoni bloccati in comune c'è pistoia capitale impossibile prenotare spazi al palazzo di Giano o al villone finché non sarà pronto il calendario dell'eventi 2017 lo denuncia Tomasi consigliere comunale di Pistoia Domani il gruppo in consiglio 12 coppie non possono fissare la cerimonia perché l'ufficio non sa se le sale saranno disponibili una cosa paradossale e questo è la nostra rassegna stampa è questo quello che abbiamo letto nei giornali online nei quotidiani nazionali per quanto riguarda la cronaca nazionale e la cronaca estera la cronaca della montagna e la cronaca locale sui giornali cartacei per adesso è tutto l'approfondimento lo avremo nel prossimo notiziario alle 14 e come sempre domani mattina alle 9 e mezzo non mancati